Un mistero che non trova pace, la verità nascosta dietro la tragica fine di una principessa amata da tutti. Ma cosa è realmente accaduto quella notte a Parigi, 25 anni fa? E perché il principe Harry riaccende ora il dibattito? A vent'anni di distanza dalla notte che ha visto la fine tragica di Lady Diana, la principessa del Galles, il velo del mistero non si è ancora dissipato. Quella tragica serata del 31 agosto 1900, 97 a Parigi, si concluse con un incidente stradale che ebbe come teatro il pont dell'alma, lasciando il mondo in uno stato di incredulità e dolore profondo. La morte di Diana non fu solo una perdita devastante per la famiglia reale e i suoi innumerevoli ammiratori in tutto il mondo, ma anche il punto di partenza di un complesso labirinto di ipotesi e congetture. Nel cuore della notte, la Mercedes S280 che trasportava Diana e il suo compagno Dodi Al-Fayed, insieme al loro autista Henry Paul e alla guardia del corpo Trevor Rhys Jones, si schiantò contro una colonna del tunnel. L'impatto fu fatale per Diana, Dodi e Henry, mentre Trevor sopravvisse nonostante gravi ferite. L'inaspettata e tragica fine della principessa del popolo scatenò un'ondata di commozione globale, trasformando il suo funerale in un evento seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Nel dolore e nella fusione che seguirono, emersero teorie del complotto che suggerivano motivazioni oscure dietro l'accaduto, alimentate da vari fattori come la rapida ascesa di Diana a icona globale, la sua relazione turbolenta con la famiglia reale e le sue campagne contro le mine terrestri. Cosa ne pensate di queste rivelazioni? La verità sulla morte di Lady Diana sarà mai pienamente svelata? Condividete le vostre teorie nei commenti. Alcune teorie suggerivano l'intervento dei servizi segreti, altre ipotizzavano un deliberato sabotaggio da parte di figure non specificate, ansiose di impedire a Diana di sposare Dodi e di potenzialmente convertirsi all'Islam. Nonostante le indagini ufficiali abbiano concluso che l'incidente fu causato dalla combinazione di eccessiva velocità e dall'alterazione psicofisica dell'autista a causa dell'alcol, le speculazioni non si sono mai placate. Se questo mistero vi ha catturato, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi nessun aggiornamento. Il continuo interesse per la vita e la morte di Diana testimonia non solo l'immensa influenza che ha avuto durante la sua vita, ma anche il desiderio collettivo di trovare una spiegazione più profonda alla sua prematura scomparsa, una spiegazione che possa forse dare un senso alla perdita di una figura tanto amata e controversa. Recentemente il principe Harry ha riportato l'attenzione su questo doloroso capitolo della storia reale con delle rivelazioni sconcertanti. In una confessione al giornalista Anderson Cooper ha espresso il suo duraturo desiderio di trovare la verità, una verità che sembra sfuggire sia a lui che al fratello William. La decisione di considerare la riapertura dell'indagine sulla morte della madre sottolinea la profondità del loro bisogno di risposte, in un puzzle dove molti pezzi mancano ancora all'appello.